Nel 1968 Babadium, ingegnere forestale senegalese, disse queste parole. Alla fine conserveremo solo ciò che amiamo, ameremo solo ciò che conosciamo e conosceremo solo ciò che ci è stato insegnato. Salve a tutti, per prima cosa mi presento, mi chiamo Daniela Tinti e mi occupo di divulgazione botanica da 25 anni, ma siccome volevo sperimentare qualcosa di diverso ho creato Daniela Tinti and the Flowers. Daniela Tinti and the Flowers è un progetto di divulgazione botanica scientificamente impertinente, rigorosamente dissacrante, sperimentalmente provocatorio, auspicabilmente divertente. a tratti trash con note noir e un aroma persistente di ironia e frutti rossi. Non è vero, ci saranno anche momenti di serietà, eh eh, ma pochi. Daniela Tinti sarei io, naturalista di formazione, botanica di professione, raccontatrice di botanica per passione, cantautrice, sempre di botanica per sperimentazione. Ma se volete un curriculum più serio, cercatelo sulla mia pagina perché da qualche parte l'ho messo. Non ho un buon rapporto con il cosiddetto sistema. Io cerco di cambiare lui e lui cerca di cambiare me. Un casino, insomma. The Flowers sarebbero i fiori, o più in generale, le piante. Quelle, il cosiddetto sistema, non può cambiarle, ma può purtroppo estinguerle o almeno arrivarci molto vicino. E a me questa cosa fa molto in... Ma veniamo al dunque. È successo che Daniela Tinti and the Flowers ha incontrato Farma Natura e ne è nata una bella cosa. Se Farma Natura è il vostro fornitore di benessere, non dimenticate che quel benessere deriva dal mondo vegetale in cui siamo tutti, costantemente, piacevolmente immersi. Vorremmo che entrare in un negozio Farma Natura non fosse solo un'esperienza d'acquisto, ma che diventasse per voi un'opportunità. Un'opportunità per acquisire consapevolezza su quanto di raro e prezioso ci circonda ed entrare in contatto con la vera sorgente di benessere. Quel filo d'erba, quel fiore, quel particolare tipo di albero che abbiamo sempre visto, ma che non abbiamo mai veramente guardato. Vi racconterò le cose che a me è piaciuto scoprire. Vi farò notare piccoli dettagli e vi racconterò aneddoti che probabilmente cambieranno il vostro modo di camminare sui prati, nei boschi o su una semplice aiuola, ossia in quei luoghi dove comincia Farma Natura, in quei luoghi dove tutti noi cominciamo. E allora seguitemi sul blog che trovate sul sito di Farma Natura.